Filmano i loro professori durante le lezioni e poi fanno circolare i video su un gruppo WhatsApp. Scuola Mario Costa di San Francesco al Campo, 5000 anime in provincia di Torino. Obiettivo dei filmati, deridere i professori. Fra le immagini e anche le foto che alcune studentesse si erano scattate negli spogliatoi. Un professore sequestra i cellulari per controllare il contenuto e così scopre tutto e sulla base del regolamento d'istituto che vieta l'utilizzo dei cellulari in classe 22 studenti vengono sospesi, 6 per un giorno, tutti gli altri per 3 ore. Ma la metà dei genitori infuriati annunciano iniziative legali per violazione della privacy. Come leggere la protesta di questi genitori? Da una parte c'è questo iperprofessionismo dei genitori nei confronti dei loro figli. Dall'altra in qualche modo è saltato il triangolo che dovrebbe essere virtuoso tra appunto genitori, figli e docenti, professori. La scuola invece si regge su questa alleanza, su questa sinergia. È saltato qualcosa forse per questa ossessione tutta contemporanea del voler firmare, del voler riprendere a tutti i costi. Non si vuole vedere ma soltanto riprendere per sfruttare, per ridere, deridere, eccetera. Questo ovviamente è inaccettabile. Però forse dovremmo scavare un po' più a fondo. Se filmare è non voler osservare ma soltanto prendere delle immagini, allora non va bene. Però rimane che il rapporto educativo passa da questa osservazione. Noi professori, lo dico in primis in quanto professori, dobbiamo sempre ricordarci. I ragazzi ci osservano. Per come ci comportiamo è lì che passa la forza, l'impatto educativo. Senta professore, con un'immagine diffusa si dice spesso che fino a qualche anno fa uno studente ripreso dalla maestra, dal professore che tornava a casa, poi riceveva dai genitori un'ulteriore punizione. Adesso sembra che scuola e famiglia siano addirittura entrati in contrasto. Ma cosa è successo? Sì, c'è questo rovesciamento. Anch'io da ragazzo venivo sgridato da mia madre e oggi vengo sgridato dalle mambe, per cui mi trovo sempre a essere sgridato. È successo, sono 30-40 anni, di una società che ha perso appunto questa fiducia che c'è su questa alleanza, scuola-famiglia. In qualche modo c'è uno strappo, un vuoto tra genitori e figli che non può essere colmato interamente, integralmente dai professori. Si delegano i professori a dire dei no che i genitori non riescono più a dire e quando questi professori danno questi no, questi argini, in qualche modo quasi un senso di colpa spinge automaticamente alcuni genitori a difendere in maniera eccessiva i loro figli.